La lunga isola di Gesira è immersa a sud in una verde oasi, su cui domina l'alta torre del Cairo, simbolo della città moderna. La torre ospita un ristorante rotabile, con una splendida vista panoramica che spazia da Giza al monte Mokattam. Oltre agli impianti sportivi e ai vasti parchi, nella parte settentrionale dell'isola sorge uno dei moderni quartieri residenziali del Cairo, Zamalek. I grandi grattacieli sono sedi di importanti uffici amministrativi, tra cui le ambasciate di numerosi paesi e ospitano alcuni dei più lussuosi alberghi della città. Di notevole interesse i musei, tra i quali si segnala quello d'arte moderna, con opere di artisti egiziani del Novecento. Grandi ponti e grandi arterie, insieme con le slanciate costruzioni moderne, creano le prospettive tipiche di una metropoli supermoderna.